Signori, belle mie, benvenuti, minchia l'intro di merda che ho, incredibile, incredibilissimo. Allora ragà, nell'ultimo episodio ci siamo salutati che siamo usciti dalla caverna, abbiamo preso il respiratore e insomma adesso rientreremo nella grotta per prendere, cioè per andare dall'altro lato. Quando ho staccato l'episodio qui mi hanno attaccato i 25, non riuscivo a dormire, mi sono allontanato, insomma ho finito le due granate per uccidere i due bestioni lì che ci hanno ucciso nell'episodio precedente. Insomma, comunque sì, comunque sì, lo siamo aperti. Il fatto sta che stiamo rientrando per vedere se abbiamo dimenticato qualcosa. Che poi per vedere, abbiamo dimenticato qualcosa. Io non so se andare con l'accendino perché in tal caso passo alla molotov, mi devo solo ricordare in che cazzo di tasto l'ho settato. 9, no, 7. Non mi sono settato la molotov, male. Mettiamolo con l'7. Eh, e ora ha preso la torcia, allora si è cretino. Ah, forse all'7 c'era la torcia. Ma ti vuoi abbassare, porco di quel cane? Ok, perché almeno se incontriamo quei due bastardi... Vediamo fuoco. Ma qua la stoffa, comunque rispetto a The Forest 1, è molto più introvabile. Allora, qua c'erano i salvagenti. Qua li avevamo uccisi, i due. Cioè, i quattro mutanti. Minchia, ma mi sa che respawnano. E noi abbiamo girato poi a destra. No, mi sa che non respawnano. Noi poi abbiamo girato qui a destra e finisce con prendere il respiratore ed esce. Dovevamo andare dritto. Vediamo se vedo il bastardo qua. Ma ha paura del fuoco? Oh, caputana! E' affare... Oddio! Cioè, lo vedi? Lo vedi che non ha senso? Questa si gira così e ti scioglie. Uccidere sto bestione non è semplice. Questo ci fa... Questo ci... Io ci appizzo tutta l'armatura, già me lo sento. Questo va bruciato. Questo va bruciato. Io non vedo un cazzo. Ok, preso, preso, preso. Dio! Ok? Ok? Ci abbiamo fatta? Non ancora? Sì? Sì? Eh? Sì? Sì? Perfetto. Eh, a Molotov dobbiamo andare, ragazzi. A Molotov. Che tra l'altro è una cosa molto più procurabile rispetto agli altri. Sì, ok. Squaliamo. Allora, noi abbiamo in questo momento cinque parti d'armatura d'osso. Che mi sembra più resistente di quella che ti danno l'oro. Però anche però che quella che ti danno l'oro è molto più procurabile. Che poi su The Forest 1 potevi anche potenziare le armi tipo con i denti, la mazza. Qua non lo so, lo devono ancora raggiungere. Per quello vi dico, è troppo incompleto. Comunque non so perché in alto destra vi dà, come vedete, gli FPS, le cose che sto facendo. Calcolate che gioco a grafica molto alta. Anzi, bene o male mi mantengo sopra i 60 FPS stabili. Ci sta come roba. Tanto non è un gioco che ha bisogno di fare chissà quanti FPS. Almeno ci godiamo anche un bel po' di qualità visiva. Che qua ce ne sono altre due. C'è l'altro? Sono tutti morti? Oddio, ma lei che si alza così? Suoia, suoia tutto. Minchia, due parti di armatura le abbiamo persi, che due coglioni. Ancora. Ma allora sei proprio tronzo in culo. Minchia ma ce ne sono tanti, ragazzi. Tanto si mangia la stamina sta. No, ragà, ragà, fammi prendere la torcia. Che io sento roba. Eh, 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 ecco. E ora questo qui come cazzo l'accendo? Oh, culo. Componente elettronico. Questi qui servono per fare le bombe a orologeria. Siamo full. E non possiamo manco fare la bomba perché mancano le monete. Mi manca. Ma cos'ho trovato? Oddio, pistola stordente. Perché non mi fa prendere quest'altra bottiglia? Fammi vedere. Porca puttana. Munizioni per pistola stordente. Allora, io direi che con quello che abbiamo, noi abbiamo due stoffe. Intanto facciamoci due molotov. Sono utili. E ci sta. Dammi un'altra. Ci creiamo due molotov. Poi possiamo, praticamente, non possiamo fare un cazzo. Allora, intanto abbiamo la pistola stordente e dieci colpi per la munizione stordente. Allora, penso sia comunque un taser a distanza. La butto lì. Io per sicurezza l'equipaggerei sul tre. Vediamo. Attenzione. Minchia, ragà, intanto la pistola stordente. Tanta roba. E qui non si passa. Quindi si torna indietro e si va a destra su quel bivio. La cosa più strana, onestamente, non è tanto la pistola stordente, ma quella stanza rossa che abbiamo visto. E questi rumori di merda che non mi piacciono. La mazza è oppi, ragazzi. Io userò la mazza tutta la vita perché rispetto all'hash veramente non ha paragonabili. Il taser sarebbe più forte, però è vero anche chi ha le batterie. Le batterie non sappiamo se è più importante metterle sul taser o sulla torcia. Ho dei flare che ci sta. Ah, luogo chiuso. O si va da qualche parte qua se ci infiliamo male. No, luogo chiuso. Sì, di qua è dove siamo stati che poi si va sott'acqua. Ed esce. Mi sembra strano che... Quindi è qui solo per la pistola, dici. Do un'ultima controllatina, ragazzi. Io a voi molte zone ve le taglio. Ma che... Cosa sto vedendo? Ragazzi, io ho visto un robo gigante camminare lì, eh. Ma da dove si ci può andare? C'era un bivio che andava a destra. Ero quasi sicuro che quel bivio ti portasse lì. Poi siamo full armor con l'armatura inquietante. Non so se con questa armatura gli indigeni ci attaccheranno. Perché comunque abbiamo parte della loro famiglia. Boh, raga. Significa che l'abbiamo vista tutto. Possiamo uscire. Abbiamo preso comunque l'autorespiratore. Quindi possiamo andare alla caverna che abbiamo visto nell'episodio precedente. Che poi, raga, mi sta avvenendo anche il dubbio di pensare. Quando siamo andati sott'acqua, magari c'era un altro passaggio. Magari c'era un altro passaggio. Noi abbiamo tirato dritto e siamo usciti. Può essere anche così. Boh, chi lo sa. Sai che in acqua possiamo sempre esplorare qua in mare e vedere se troviamo l'entrata. Per il peggior di caso. Però io onestamente per adesso mi va bene così. Ritornerei alla caverna che avevamo incontrato prima. Quindi riseguiamo il fiume che tra l'altro devo anche bere. Riseguiamo il fiume e saliamo nella caverna sopra. Per vedere se su quel laghetto apparentemente inutile invece ci si nasconde qualcosa sotto. Oddio, sono tutto fatto di budella. Che schifo. Figo però. Ce ne siamo andati con una pistola stordente e l'autorespiratore. Cioè alla fine. Vabbè l'abbiamo preso nell'episodio precedente però è trovato lì. Quindi comunque non è che era inutile. Però quella stanza lì raga ma che cosa sarà? Cioè sembrava qualcosa di costruito raga. Ma soprattutto la cosa strana è che non è qualcosa di costruito e basta. Di artificiale. Ma non sembrava nemmeno qualcosa fatto dagli indigeni. Cioè gli indigeni più di fare quattro capane. Cioè fanno pure le poltrone raga con gli arti umani. E dubito che gente del genere ti vada a costruire sbarre di ferro. Capisci? Proprio una struttura vera e propria. Ah va porca puttana non mi fa bene. Per cui sta cosa fa pensare. Fa pensare tanto raga. Che cosa ci sarà? Che ha costruito quella roba no? Qualcuno di intelligente è sicuramente non un indigeno. E quindi se non è un indigeno ma è qualcuno che ha costruito una roba del genere. Dentro c'è un bestione del genere che abbiamo visto strisciare. E chi lo sa? Sono frutti di esperimenti mutanti? Magari gli indigeni no. Vivono qua. Può essere una semplice tribù dell'isola. Ci sta. Dei nativi no? Ma i mutanti? I mutanti magari sono frutto di un esperimento malato. Perché dobbiamo contenere in conto che The Forest ha molta narrazione ambientale. In base a quello che vediamo è un gioco che ti pone molte domande. Ti dice micchia chissà come sarà questo. Chissà come sarà l'altro. Cioè ti pone molte cose. Allora io mi dirigo verso casa e in teoria andando verso casa dovrei incontrare la caverna che abbiamo visto prima. Che non dovrebbe essere lontana da qua. In teoria dovrebbe essere vicino al segnalatore. E dobbiamo andare verso di qui. Tra l'altro siamo al giorno 7. Appena passata una settimana. Porca di quella puttana. Dove è? Ma no così magari cacciamo un po'. Eeeh. Miglia roba nude. Allora io non so se gli episodi di The Forest farli lunghini. Parliamo di un 40 minuti. Perché secondo me è un gioco che va goduto. Io proverò al solito come faccio in ogni serie sai a ridurvi il più possibile. Prendere solo i momenti dove io sto parlando o dove succede qualcosa di interessante. Vabbè su The Forest non ci sono filmati quindi prenderò solo i momenti in cui si sta facendo qualcosa di interessante. O che vi sto dicendo qualcosa. Qua ci vuole la pala. Abbiamo trovato un altro punto. Posso scavare su queste tombe. Minchia che cazzo ci sarà. Con questo rosicando un sacco perché ero partito con la speranza di trovare l'ascia. Invece non c'ho niente. Non c'ho niente. Ora mi tocca completarmi il ponte. Devo completarmi quel cazzo di ponte con l'ascia che ho io che fa cagare. Il problema è che negli accampamenti indigeni c'è sempre gente. Cioè se li trovo liberi li lutto. Però se ci sono loro vorrei evitare conflitti. Perché poi ti attaccheranno a visto ogni volta che ti vedono. Ed è una rottura di coglioni. Sia per il rischio che hai tu di morire o che ti derubano casa. Comunque cercare di mantenere un rapporto non dico pacifico ma neutrale. Secondo me non è una cattiva idea. Dio attenzione raga. Ho trovato un accampamento e non c'è nessuno. Con aria decisa. Mi pronto a luttarli tutti. Nastro che questi mi servivano. Stoffa. Sì. Se sarà utile faccio un busto. Un piede. Un classico dell'arredamento locale. Vabbè sai che sono full. Potevo evitare. Soldi. Oh il telo che mi serve che non ne avevo. Merda. Merda. Beh vediamo se non mi dicono niente. Oh loro rompono a me e io rompo a loro. C'è pure un cannibale. Stoffa. No mi servono troppo. Mi servono troppo queste robe. Sti cazzi. Oh felpa ho trovato. Un nuovo accessorio. Magari mi prendono per uno di loro raga. Perché sono tutto con full armor. Ok c4. E dai dai in teoria mi stanno studiando. Ma è una femmina quella lì. Le femmine in teoria avvisano il maschio poi. Se io me ne vado prima che lei avvisi. Vedi mi ha visto. Mi studiava da lontano. Perché comunque è una donna del gruppo. Lei non è tendenzialmente alla difesa. Qua dobbiamo paragonare le cose raga. Tra l'altro non ha manco urlato. Quindi mi stava osservando in silenzio. E adesso anche se urla non sanno dove sono. Mi sembrano cazzate quello che sto dicendo. Ma in realtà. Secondo l'intelligenza artificiale che ha The Forest. Questa cosa è vera. Calcolate che loro sono primitivi. Ok. Quindi si ragiona. C'è la legge del più forte. Quindi ci sarà il capo tribù. Che sarà sempre un uomo. Sai la donna è quella che serve per riprodursi. In queste circostanze. C'è la ficca. Basta. Si è finito lì. E quindi in questa situazione. La donna è come una sentinella. Degli avamposti. Va lì. A stirare i panni. Che cazzo ne so. Fa le robe lì. Oddio ma questo è un mutante. Cazzo ci fa qua. Questo dovrebbe attaccarmi a vista. Vedete. Questi sono uguali a quelli. Ma lì. Che si è brutto. Questo è uguale. A quelli che troviamo. Nelle. Nelle caverne. Quindi uccidendo questo qui. Non creiamo nessun tipo di conflitto con le tribù. Perché questo non è un indigeno. Questo è un mutante. Come vedete. Sono tutti malformati. Nudi. Senza. Senza genitali. Cioè senza palle. Io sto parlando troppo pulito. Raga ultimamente. Mi sto. Cazzo sta succedendo in me. Comunque senza palle. Insomma. Ed è senza occhi. Anche se avete fatto caso. Quindi è proprio un mutante. Consequenza ci attaccherà lui a vista. Che poi è senza occhi. Oddio. Madonna mi sono cagato. Raga. Maria mi cagai. Mi cagai. Mi cagai. Comunque questa qui è la caverna. Finalmente l'abbiamo raggiunta. La caverna tanto amata. Questa caverna nell'episodio precedente non c'era un cazzo. Se non un laghetto qui. Che non potevamo accedervi. Perché non avevamo il respiratore. Adesso che l'abbiamo. O questa caverna è inutile. O qua sotto c'è un passaggio che noi non conosciamo. L'unico modo per scoprirlo è fare così. Qua esploriamo mondi sommersi. Tanto ti dà mare di ansia quando sei tipo. Così. Immerso nel buio più totale. Vedi. Un po' sfocato le poche cose che hai davanti. Che ci sia. Buon Giorgio. È molto simpatico. Oddio. Allora. I due stronzi li abbiamo scuoiati. Qua ci sono delle osse. Grazie alle corde e i nastri che abbiamo recuperato nell'accampamento. Possiamo farci volendo qualche altro. Pezzo di armatura. Che però non faremo per adesso perché non ne abbiamo bisogno. Eh vabbè ce la stiamo giocando da dio a sto giro. Io farei. So che è un po' azzardato. Ma mentre c'è un po' di spiazzo. Farei una bella tendina. Perché almeno riposo. Perché sono stanco. Di conseguenza non posso avere il 100% della mia stamina. Almeno domattina facciamo una colazione da campione. Eh guarda. Facciamo pure abbastanza estetico qua. Questa carne. Questo è lo scoiattolo che abbiamo ucciso. Abbiamo ucciso in giro. Per arrivare qua. E vabbè mentre che aspettiamo che la carne cuoce la sete. Adesso possiamo resistere. Ma la testa è cotta così. Ma la mangio. Ah no la prendo e basta. Poi questo qui lo smonto e me lo raccolgo comunque. Perché ho solo questo telo. E per l'emergenza mi serve. Mangia di sta carne. Diamo la multa. Significa che siamo più lenti. Qui. Ma siccome penso che ci sarà poi una zona. Sott'acqua presumo. Quindi oddio. Oddio sto scivolando verso gli incubi. Cazzo dove minchia sono. Madonna. Non mi dire che c'è un altro squalo che minchiazzo. Cosa è passaggi sott'acqua? No niente. Ma non posso perla questa acqua qua. Cioè alla fine è un laghetto. Sarà dolce come acqua. Questo muro sembra crollabile ragazzi. È pure un passaggio dietro. Io tenterei l'esplosivo. Però facciamolo dopo. Oppure facciamolo adesso. Che poi me lo dimentico. Cosa c'è qui? Una granata. Guarda te la fanno pure trovare. Per dirti guarda. Se non ce l'hai te la do. Oddio. E vabbè troppo gentile raga. Ok. Tiriamo la granata. Vediamo se esplode. Maria non lo so. Non vorrei che sia un bug. Tipo sia lanciata in un punto dove non la prendevo. La pietra. Oh. Oh porca puttana. Mi stanno. Mi hanno chiuso male. Caputtana. Sono veloci a colpirti più di quanto lo sia io con la mazza. Sempre. Un colpo riescono a dartelo. Medicina che sono full purtroppo. Vedi perché conviene a volte posarli a casa. Questo io c'ho l'idea. Fare sta roba così. Ma tu guarda come uno stronzo così ti ha tolto un altro pezzo di armatura. Ma che due coglioni. Come siamo messi qua. Quanti pezzi abbiamo. Due li abbiamo noi. E sei qui. Perfetto. E ne abbiamo otto. Allora. Qua se non ne avevo visto male c'era un cadavere. Eccolo qua. Stoffa. Una bottiglia. Due bottiglie. Altra stoffa. Penso per farci fare due molotov. Usiamo una bombola. E la prendiamo. Perfetto. Di qui si può andare sott'acqua. Partiamo da questo. Minchia è grande sta caratterizzando. Per adesso non abbiamo trovato niente di interessante. C'è solo la muta. E poi proviamo. Vediamo però se procuriamo. Sì però aspetta. Se noi non entriamo in acqua. Avere sta cosa ci rallenta. Mettiti la felpa. No 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 no. Ci sono i. Quelli a due. E che cazzo. Prenditi sta minchia di accendino. E questi ci diamo fuoco ragazzi. Ci diamo fuoco. Questi sono tosti. Ok ok. Minchia due di questi addirittura. Eh non si fa un cazzo. Gli ho presi tutti e due con un colpo. Godo. Ma c'è pure quello raga. Qua è dura. Quale ce n'è un altro. Oh cazzo mi ha preso. E non abbiamo più molotov. Bene. Non abbiamo più granate ma. Sti cazzi. Sti cazzi. Non abbiamo più granate ma sti cazzi. Ne vale la pena. Perché qua ci saremmo morti. O comunque avremmo. Sì no ci morivo. Troppa gente forte. Cioè non è che erano quelli normali. Erano quelli che proprio che ti scassano. Allora questi li abbiamo fatti. Guarda qui. Questo è morto con il manuale. Cioè sembra un libro su quel materiale che loro stanno cercando. Cos'è? Accessorio torcia. Oh. Interessante. Una torcia per pistola ma. Rimaniamo sempre lì. Al fatto che noi non abbiamo la pistola. Munizioni per pistola. Oh mingà. Almeno fatemi trovare la pistola. Altre munizioni. Ma qua sono morti tutti. Vabbè ci credo. Guarda cosa c'era qua raga. C'erano tutti gli indigeni. Quelli più forti. Sembra peccato lasciare tutta sta roba qua. Medicinale. Ma se siamo fuori. Facciamoci tre molotov raga. Che possiamo. Ora siamo pure senza granate. Senza nessun tipo di esplosivo. Perché non abbiamo trovato. Banco una cazzo di monetina di merda. Mamma mia sto posto. E' gigante raga. Non so dove minchia. Guardare prima. Cerco di guardare ogni angolo. Perché dovrei tirare una granata. E' esattamente lì. Guarda come si è spostato. Ok ha negato. Ok il più importante è ha negato. Raga godo. Qua ce n'è un altro. Minchia la caverna è infinita questa raga. Certo ne abbiamo sprecate di risorse importanti. Ma giocando da soli. Che non possiamo contare. Diciamo il compagno che ti ressa. Bisogna sopravvivere. E se minchia. Se per sopravvivere devo buttare una granata. La buttiamo. Ma dove minchia sono raga. Cosa vedo davanti a me. Perdonami. Oh bimbi sudatelli di nuovo. Maria fail. Non sapevo se avevavo la difesa. Mi riparticcia fail della vita. Sì dal cazzo tu. Dai tu salta se devi saltarmi. Raga eliminiamo pure questo. Questo va. Salta. Minchia sembra un po' quando prendi la pallina. Con la racchetta raga il sound. Ok. Facciamo un altro. Minchia. E questo adesso come cazzo. No. Come sprecare una molotov. Ok. Quello è bagatissimo lì. Perdonami eh. Un attimo di pazienza. E' morto. Eh però la lancia colpisce più a distanza di quanto loro riescano a colpirmi raga. Munizioni e pallet... Non ci credo. La pala. La pala raga la pala. Ma da qui non possiamo andarci. Ma non è che se sparo tipo una fune possiamo andare lì raga. E' tipo un muro invisibile di qui. Non posso nemmeno cadere. Però qualcosa mi dice che potremmo tentare questo esperimento. Fammi vedere. Se io miro... No. No. Non si può fare. Vabbè. Ma... Eh raga prima non potevo. Ma ora non ho granate. Che rumori di merda. Ma ora non ho granate. Cazzo le tiro. No raga io non ci credo. L'unica uscita che ho... Allora raga ho girato la caverna per un bel po'. L'unica uscita che ho è questo stronzo qua. Il problema raga è che non ho una granata per ucciderlo. Di conseguenza non so veramente cosa fare. L'unica cosa che posso fare è salvo. Se riesco. E vediamo. Aspetta. E per salvare intanto... Devo farmi... Ecco. Non male che abbiamo il telo. Provo a salvare. Rientrare. Perché se no... E... Cazzo devo fare. Tra l'altro se sta cosa funziona raga è un mezzo glitch. Dato che uno può sfruttare sta cosa per farmare risorse. Ti prego dimmi che le cose sono sfronate. Sì. Sì raga. Sì. Sì. Non ci credo. Queste casse sono chiuse. Ci prendiamo anche le granate che erano qua. Aspetta. Aspetta aspetta. Manguto l'una ce l'ha su. E ora... È una presa per il culo. Mi sta prendendo per il culo. Prima c'era il bestione qua per uscire. Ma non mi dire che non mi ha salvato la pala. La pala ce l'ho. Quindi la caverna è esplorata. Ora raga. Io sto ritornando indietro per l'ennesima volta. Due ore che giro qui. Perché... Mi si bagga. Sto bastardo che non vuole uscire. Io... Ecco. Quante granate ho? Perché se ne ho due... Ah, ne ho quattro. Due ce le possiamo tentare. Cioè almeno una. Che non si apre. Tale guardami. Posso sbagliare raga. Ma qua o ci siamo chiusi male. Oppure dobbiamo sperare che veramente il gioco sia ben fatto. E vi dirò perché. Guardate. Allora intanto... Oh. Guarda qua. Guarda qua di nuovo le granate. La bombola. Però intanto ragazzi siamo refullati. Perché? No, ma questa cosa però è un po' sbroccata raga. Perfetto. Secondo me questi pipistrelli sono dei trigger. Cioè dei... Come cazzo si chiama? Dei... Tipo degli interruttori raga. Ovviamente in molti giochi funzionano che una cosa si attiva se tu fai una precisa cosa. Ok? E secondo me lo scopo era andare qui. Prendere la pala. Quindi ti costringono in qualche modo ad esplorarti bene la caverna per prendere la pala. Una volta che tu trovi la pala... Una volta che tu trovi la pala puoi finalmente accedere a quella cosa... A quel muro lì. Quindi si romperà quel muro, ti uscirà il bastardo lì e lo puoi fare esplodere. E' come se tu ti debba per forza assicurare che... Ehm... Che attivi, che insomma che ti vai a raccogliere la pala o della stoffa sacra. Come se ti debba assicurare per forza che raccogli quella pala. E poi... Vedete? Vedete raga? Vedete che è vero? Ecco, adesso che abbiamo la granata possiamo uscire. Minchia raga, questo episodio lo chiamerò bloccati nelle caverne. Ti giuro, due ore che voglio uscirmene da qui. Prendi quella carne, che poi sicuramente meglio andrò a mangiare perché io ho fatto... Vedo un cazzo. Ah, cercheremo di accamparci. Ci accamperemo qua. Questa notte andrà bene. Ok, creiamo il nostro piccolo accampamento falotattico. Esattamente, accendi, si è fatta la luce. Oddio, ma sto dando fuoco a... Ah, ok. Perfetto, mettiamo a cuocere roba buona. Magari prendiamo poi domani. Speriamo che non se ne accorgono subito, se ne è un casino. Ragazzuoli, noi per questo episodio ci salutiamo qua. Noi ci vediamo nel prossimo episodio. Qui con The Forest. Ciao, belle mie. Ciao, belle mie.